I mercati tradizionali, dopo l'intervento al Jackson Hole del Presidente della Federal Reserve, ovvero Jerome Powell, hanno deciso di fare un bel balzo verso rialzo. Questo perché definitivamente dopo diversi anni abbiamo visto un'intenzione definitiva e confermata dalla Federal Reserve di tagliare i tassimi già a partire dalla prossima sessione dell'FOMC. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon lunedì mattina a tutti, un buon inizio settimana a tutti. E soprattutto ragazzi, in questo video voglio subito aggiornarvi con quello che sta succedendo ed è successo a cavallo appunto tra questo venerdì, perché come gli ho anticipato, ha parlato il Presidente della Federal Reserve durante il Jackson Hole e definitivamente ha confermato che è arrivato il momento di iniziare a tagliare i tassi e di conseguenza di cambiare la strategia sulle manovre in relazione appunto di politica monetaria. Inoltre ragazzi voglio mostrarvi dei grafici molto interessanti e le ultime news, prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio di credo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Hai fatto? Perfetto, basta perdersi i chiacchi e passiamo con la visuale a PC. Allora ragazzi, prima di andare a vedere i dati economici che usciranno durante questa settimana e ne avremo di molto molto importanti, voglio andare a racchiudere e a commentare insieme a voi quello che ha detto, insunto ovviamente, durante il Jackson Hole il nostro grandissimo Jerome Powell, ovvero il capo della Federal Reserve. È arrivato sul palco del Jackson Hole, ha rilasciato poche dichiarazioni effettivamente, in realtà sappiamo benissimo che quell'uomo non è un uomo di tantissime parole, infatti va dritto e chiaramente al punto, però è stato fissato un punto molto molto chiaro, ovvero è arrivato il tempo di cambiare la politica monetaria. Sapete bene appunto che negli ultimi anni proprio con il rialzo, il picco in realtà, verso il rialzo per quanto riguarda l'inflazione, per quanto riguarda le maggiori economie, in questo caso anche per il dollaro americano, abbiano indotto la Federal Reserve in primis ad alzare i tassi di interesse. E adesso, dopo che per diverse sessioni, se non sbaglio per più di sei mesi, sono stati lasciati stabili, come ha dichiarato Jerome Powell, è arrivata l'ora di cambiare la politica monetaria, appunto iniziare a tagliare i tassi. Abbiamo già visto per quanto riguarda l'economia europea, ovvero appunto la Banca Centrale Europea che ha già fatto un taglio dei tassi di 25 punti di base come taglio di prova, e arriverà anche per quanto riguarda la Federal Reserve, ovvero la Banca Centrale Americana, durante la prossima sessione, che ricordo ci sarà esattamente tra 23 giorni, ovvero appunto il 18 settembre, e soprattutto come andremo a vedere a brevissimo, praticamente tutto il mercato si aspetta che ci sarà un taglio di almeno 25 punti di base, come ribadito appunto anche dal Presidente della Federal Reserve. Ha ribadito anche il fatto che questa è una decisione indotta dai vari dati incoraggianti per quanto riguarda le manovre fatte in passato dalla Federal Reserve, infatti il mercato del lavoro è in rallentamento, la disoccupazione per quanto ancora sotto controllo è in crescita, cosa che vuole vedere appunto la Federal Reserve per una contrazione dell'economia e di conseguenza una diminuzione dello spending e un abbossamento dell'inflazione. Non ci sono più pressioni eccessive dal rialzo dei salari, allo stesso tempo appunto l'inflazione, sempre per quanto è stato riportato da Jerome Powell, è su livelli tali da lasciare presumere un ritorno verso il 2%. Qui diciamo che Jerome Powell è molto positivo, infatti anche come dichiarato da diversi analisti, però almeno per adesso, come vi ho già ribadito, stiamo parlando di una quantificazione abbastanza difficile da andare a definire. Infatti se andiamo a vedere le prospettive di mercato, vediamo come nella prossima sessione dell'FOMC il 76% al momento in cui sto registrando degli analisti si aspetta un taglio di 25 punti base, il che sarebbe super positivo perché sarebbe scontato come un inizio di manovra, ma soprattutto darebbe un'impressione al mercato che la Federal Reserve andrà a fare un taglio dei tassi sotto controllo. Qualora invece avvenisse un taglio di 50 punti base che, almeno ai dati che abbiamo oggi, il 24% degli analisti si aspetta questa tipologia di manovra, ovvero una manovra molto più aggressiva, in realtà sarebbe scontata dal mercato, come abbiamo visto negli scorsi video, come una manovra aggressiva e soprattutto trasmetterebbe al mercato stesso che la Federal Reserve abbia fatto un taglio di emergenza. Infatti tendenzialmente quando a livello storico abbiamo visto che c'è stato un taglio di 25 punti base, tendenzialmente poi abbiamo visto una economia tra virgolette sotto controllo, almeno questo nella maggior parte dei casi. Quando in realtà poi abbiamo visto dopo un lungo lasso di tempo che i tassi sono stati lasciati alti, l'economia è andata sotto pressione e in compressione, abbiamo visto che appunto quando è avvenuto un taglio di 50 punti base è stato scontato dal mercato come un taglio per andare a cercare a riparare i danni e soprattutto il mercato ha subito una contrazione enorme, ok? Quindi staremo a vedere cosa uscirà, io spero ovviamente un taglio di 25 punti base in modo da non andare a imprimere troppo stress al mercato. Nonostante ciò, se prendiamo in considerazione il Coinbase Premium Index che sta appunto a rappresentare in questo caso la domanda di Bitcoin per quanto riguarda gli utenti statunitensi, abbiamo visto proprio in concomitanza delle parole super positive, tra virgolette, di Jerome Powell di venerdì, un aumento di domanda che ha portato l'indicatore appunto il Coinbase Premium Index ad un dato di 0,114, questi livelli non li avevamo mai visti a partire appunto dallo scorso agosto, anzi in realtà da inizio agosto, ok? Che abbiamo avuto un aumento di domanda proprio in concomitanza del dip del mercato, diciamo che uno spike verso rialzo di un aumento di domanda del genere l'abbiamo visto soltanto quando abbiamo visto il crollo e di conseguenza un buy the dip del mercato in generale. Purtroppo negli ultimi ore è arrivata la notizia che è stato arrestato il fondatore di Telegram ovvero Pavel Durov, quali sarebbe l'accusa che in questo caso l'Europa attraverso appunto la Francia che si è trovata protagonista per arrestare quest'ultimo pioniere appunto per quanto riguarda i social network, chiamiamolo i social network ma in realtà è più un sistema di messaggistica che tra l'altro ricordo che Telegram è il social network che ha più interazione diretta col mercato delle criptolute, infatti come sapete bene ha diverse interazioni attraverso il Web3, ha un'integrazione attraverso dei portafogli proprietari, dà la possibilità di andare a pagare direttamente in criptovalute attraverso la chat istantanea eccetera eccetera. Ragazzi è stato un duro colpo per quanto riguarda Telegram stesso e soprattutto l'accusa come vi dicevo prima è quella di aver offerto un servizio ovvero Telegram stesso che venisse utilizzato da alcuni utenti a scopi criminosi. A me personalmente mi sembra una delle più grandi stronzate che ci sia. Infatti arrestare il fondatore di un software perché effettivamente stiamo parlando di un software perché anche dei criminali lo utilizzano mi sembra una delle più grandi stronzate del mondo. Staremo a vedere come finisce questa situazione però se dovesse definitivamente passare la fine dei suoi giorni in gattabuia sarebbe uno dei segnali più importanti che purtroppo attualmente in Europa soprattutto la libertà di parola sta andando sempre di più a quel paese. C'è una notizia che è stata scontata soprattutto per quanto riguarda il mondo delle criptovalute bitcoin e correlati super positiva che riguarda le presidenziali appunto di questo novembre. Infatti il pro bitcoin candidato Robert Phil Gerard Kennedy Junior che ricordo che nonostante non fosse uno dei più favoriti ma comunque sia è uno dei candidati più pro bitcoin che ci siano ha sospeso la propria corsa alle prossime campagne presidenziali ma allo stesso tempo si è affiancato a Donald Trump. Infatti diciamo che si è tirato fuori dalla corsa diretta alle presidenziali ma ha deciso di affiancarsi direttamente a Donald Trump è una cosa che è stata scontata super positiva per quanto riguarda il mondo delle criptovalute perché essendo uno dei candidati più pro bitcoin ancora più pro bitcoin dello stesso Donald Trump diciamo che ha generato abbastanza positività. Prima di cominciare passare con andare a vedere come si stanno comportando i mercati soprattutto andremo a vedere le chiusure di bitcoin che sono state molto importanti soprattutto sul daily vi volevo ricordare che c'è una promo abbastanza interessante per quanto riguarda Bitunix. Bitunix come potete vedere è un exchange Nokia YC e NovoPN almeno ovviamente per quanto riguarda quest'ultimo lasso di tempo perché poi in futuro sicuramente dovrà andare ad uniformarsi con le varie leggi ovviamente se vuole essere completamente compliant in Europa eccetera eccetera. Comunque sia iscrivendosi a Bitunix c'è la possibilità di ottenere un trading bonus di 10 USDT per i futures infatti deposita 500 USDT e apre un'operazione per ottenere un trading bonus di 100 USDT. In pratica come avete capito c'è la possibilità di andare ad ottenere un 10% di cashback sul deposito utilizzabile attraverso un trading bonus ok? Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione mi raccomando leggete tutti i termini e condizioni soprattutto per andare a vedere quale operazione dovete fare effettivamente per andare a ricevere questo trading bonus. Adesso però passiamo con il vedere come si sta comportando il mercato e ovviamente passiamo con la visuale su Crypto Bubbles. Vediamo come abbiamo un mercato negli ultime 24 ore leggermente misto infatti abbiamo FET che ho danno un 8% TRX un 4,9% TAO un 5,3% ma in linea generale abbiamo un mercato comunque sia con una direzionalità non ben precisa. Infatti vediamo anzi la Global Crypto Market Cap che rimane praticamente immobile nell'ultime 24 ore infatti sta assestando il proprio valore a 2,25 trilioni di dollari. Attualmente però andiamo a vedere come si stanno comportando i big, cioè vuol dire Bitcoin e Ethereum. Ne ultime 7 giorni interessante vedere come Bitcoin recupera un 9,40% però nell'ultime 24 ore rimane stabile a un 0,18% assestando però il prezzo a 64.000 dollari. Vi dicevo appunto che prima ancora dell'analisi per quanto riguarda che avesse parlato Jerome Powell, cioè appunto quella di venerdì, vi diceva ragazzi è importante andare a prendere una chiusura daily, ancora meglio weekly, al di sopra dei 61.800 dollari. Siamo a 64, quindi già vi anticipo che è una buona cosa diciamo. Vediamo come nelle ultime 24 ore abbiamo un Ethereum che a sette il proprio prezzo ha una perdita tra virgolette dello 0,73% assestando il prezzo a 2.747 dollari. Ma passiamo con il grafico perché effettivamente come vi dicevo dovevamo rompere questa struttura e questo livello importante del 61.700-61.800 dollari. Perché? Perché coincideva con il massimo precedente derivante appunto da questo impulso del 5 agosto. Infatti a partire proprio dall'8 agosto non eravamo mai riusciti a superare questo livello. Eravamo stati ricettati una, due, tre, quattro, cinque volte prima effettivamente del discorso di Powell e la rassicurazione tra virgolette al mercato che è arrivato il tempo di andare a tagliare i tassi eccetera eccetera. Ok? E questo è stato scontato in modo molto positivo per quanto riguarda i mercati a riscone. Anche bitcoin. Effettivamente se andiamo a prendere un weekly andiamo a vedere come anche qui abbiamo una struttura molto interessante perché abbiamo confermato una candela weekly che con un'apertura 58.5 e una chiusura 64 che conferma ovviamente una performance prendendo appunto solo le chiusure del 9,94% un andamento, un possibile andamento rialzista. Effettivamente si sta creando questa schematica. Avevamo appunto questa specie di flag. Flag che comunque sia con l'aumentare delle settimane è aumentata anche la volatilità perché eravamo partiti con una flag con una volatilità di più o meno se prendiamo questo livello del 29% ma se andiamo a prendere poi verso gli ultimi time frame vediamo come in pochissime settimane è aumentata almeno del 10% questa volatilità. Nonostante ciò abbiamo visto come avevamo confermato questi minimi che poi sono stati presi e violati da questa candela la candela della settimana del 5 agosto e tendenzialmente abbiamo confermato anche un minimo più alto rispetto al minimo precedente. Questa potrebbe essere un'indicazione che almeno in questa settimana potremmo andare a livello potenziale andare a ritoccare questa trend line discendente che prende in considerazione tutti i massimi soprattutto sul daily ma anche sul weekly. In realtà sul weekly se andiamo a tirarlo con le chiusure vediamo come potenzialmente potremmo avere un target tra virgolette verso i 67.800 dollari ok io sto parlando ovviamente di chiusure ovviamente potremmo benissimo andare a toccare a livello daily anche i livelli più alti ok di ciò che mi piacerebbe vedere tornando appunto sul daily è una continuazione verso il rialzo per andare a ritestare questa trend line prima quella lì sul weekly poi sul daily ok qualora dovessimo avere così tanta forza così tanto impulso verso il rialzo da andare a sfondarla quel che mi piacerebbe vedere rottura ritest proprio da manuale per poi andare a cercare di superare nuovamente 73.800 dollari ok che appunto il massimo storico di bitcoin ricordo che sia in questa zona che in questa zona abbiamo un sacco di liquidità da andare a prendere infatti se passiamo con la liquidation it ma soprattutto su tre mesi la prima zona di interesse tra i 70.000 fino ai 70.500 dollari qui abbiamo un liquidation leverage cumulativo di circa 10 miliardi di dollari un livello molto importante da andare a prendere per andare appunto a liquidare tutti quei player che si sono posizionati short che hanno indotto questo grosso impulso verso il basso che ha portato bitcoin dai 70.000 fino ai 5 anzi 49.000 dollari ok passando con ethereum vediamo come la situazione è leggermente diversa perché mentre con bitcoin siamo all'interno di questo range effettivamente siamo ancora all'interno di questo range abbiamo confermato sia sul daily ma soprattutto sul weekly un minimo più alto rispetto al minimo precedente effettivamente su ethereum non ci siamo non ci siamo perché ancora nonostante abbiamo avuto una rottura daily e una conferma daily al di sopra di questo massimo precedente del 2721 effettivamente la schematica non è molto bella perché abbiamo visto come abbiamo avuto un grosso crollo che ha portato ethereum dai 3.300 fino ai 2.100 quindi praticamente in pochissimi giorni anzi una settimana tipo abbiamo visto un meno 37,82% su ethereum effettivamente nonostante abbiamo recuperato un bel po' di terreno siamo ripassati a 2.700 dollari quel che voglio vedere assolutamente andare a prendere una rottura di questa zona ok rientrare al di sopra di questi minimi ancora meglio se rientriamo al di sopra della media mobile esponenzale a 226 e 200 periodi ok questo perché perché almeno vuol dire che proprio come con bitcoin rientriamo all'interno di questo cluster ok attualmente purtroppo nello scenario tra virgolette peggiore su ethereum vediamo come questo possa essere potrebbe essere soltanto un ritest della zona per poi una continuazione verso il ribasso ok almeno questo è quello che dicono i manuali di analisi tecnica eccetera eccetera ok effettivamente la schematica è un po' questa e siamo diciamo che su ethereum abbiamo più percentuali di possibilità di andare a continuare verso il ribasso rispetto alla schematica che si sta presentando su bitcoin ok infatti se prendiamo in considerazione anche la bitcoin dominance vediamo come il mercato evidentemente come ci riporta la dominante stessa è interessato esclusivamente a bitcoin almeno per quanto riguarda gli ultimi time frame vedendo appunto i mercati tradizionali molto brevemente vediamo come lo standard in pur sta ritestando praticamente i massimi storici ci manca soltanto un 1% forse anche meno eccolo qua 0,64% praticamente li stiamo ritestando e staremo a vedere un po' la situazione come si evolverà perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video se non l'avessi ancora fatto ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao